la vedi questa banconota da 5 euro? la vuoi? certo che la voglio mi starei dicendo mica sono scemo se la trovo per strada la tiro su non la lascio lì e se io prendo questa banconota e la stropiccio e la butto a terra e la calpesto e la riduco in poltiglia così la vuoi ancora? sì la vuoi ancora perché? perché benché sia stata calpestata stropicciata più ci posso sputare su questa banconota ha ancora il suo valore di cimbre se questa banconota ha così rovinata valore quanto valore hai tu? benché ti abbiano calpestato pestato sputato addosso ingiuriato o magari se tu ti sei calpestato ti sei sputato addosso ti sei stropicciato ti sei rovinato ti sei offeso tu sei una creatura che ha un'essenza divina dentro di te questa banconota vale qualunque cosa le si faccia finché resta in vita cioè a meno che non la si strappi ha il suo valore e anche tu finché sei in vita hai un grandissimo valore qualunque cosa ti succeda non dimenticarti